Liberi TV, buonasera Marco Marchese in linea per la trasmissione Voci Radicali, questa sera siamo in compagnia di Valerio Federico che adesso lo facciamo entrare sul video, eccolo qua, buonasera Valerio, benvenuto. Buonasera a te Marco, buonasera agli ascoltatori. Sì, noi li chiamiamo web ascoltatori, in effetti. Hai capito subito che non mi veniva la parola, web ascoltatori. Web ascoltatori, esatto. Allora dicevo Voci Radicali, questa sera parla e intervista Valerio Federico, tesoriere del Movimento Politico Radicali Italiani. Con Valerio vogliamo affrontare un'iniziativa, una battaglia che si accinge a fare. Lui personalmente tanti anni che ne parla e ne discute, Radicali Italiani invece sta mettendo in piedi una vera e propria iniziativa, una vera e propria campagna che sta partendo in questi giorni e che impegnerà il Movimento per le prossime settimane. Parliamo di banche e quindi parliamo di separazione delle fondazioni bancarie, dal capitale sociale delle banche, dalla presenza della politica nelle banche. Ci spieghi un po' questa iniziativa, come nasce e quali sono gli obiettivi politici che si pone? In realtà nasce da un contesto di politica economica radicale di anni. quello, il sistema che noi abbiamo analizzato, che non è altro che il regime italiano in questi anni, è quello di un sistema dove sia il ruolo pubblico che il ruolo del privato assistito ha un ruolo centrale. In Italia esiste una grande, una vasta area, a differenza degli altri paesi europei, di soggetti formalmente privati, ma di fatto in mano pubblica. E questa è un'area dove l'intermediazione della politica inquina i mercati, inquina le dinamiche di merito, inquina la libera concorrenza tra soggetti privati. Perché? Allora, intanto quali sono questi soggetti formalmente privati, ma di fatto in mano pubblica? Intanto le banche, ed è uno dei motivi per cui abbiamo dato il vita, abbiamo dato vita a questa campagna. Poi ci sono tutte quelle società partecipate dagli enti locali e dalle regioni, anche queste, molte di queste, formalmente private, ma in realtà in mano pubblica. Così come quest'area è poi ancor più ampia dal ruolo di cassa depositi e prestiti, che è un soggetto anche in questo caso formalmente privato, ma in mano al tesoro e alle fondazioni bancarie e che acquista pezzi di patrimonio degli enti locali e delle regioni proprio quando gli stessi enti locali li cedono, li vendono. Quindi in pratica cassa depositi e prestiti, un po' come faceva l'Iri, è un'articolazione dello Stato che acquista da altre articolazioni dello Stato. Poi queste cose passano come privatizzazioni, ma non lo sono per nulla. Torniamo alle banche, perché le banche sono un soggetto formalmente privato, ma di fatto in mano pubblica? Perché dal 1990 sono state privatizzate, le banche italiane, buona parte, non tutte, sono diventate delle società per azioni e quindi apparentemente dei soggetti privati, formalmente dei soggetti privati, ma in realtà all'italiana come sempre ci siamo inventati uno stratagemma, quindi ci siamo inventati le fondazioni bancarie per mantenere le banche in mano pubblica. Nel 1990 l'Unione Europea ha chiesto, ha imposto agli fondazioni bancarie in mano pubblica come creando le fondazioni bancarie. Qui è stato utilizzato una sorta di escamotage in pratica all'epoca, diciamo un po' un modo per cambiare tutto, cambiare tutto per non cambiare niente. Cambiare formalmente, ma non cambiare la sostanza, così è avvenuto, hai ragione, le fondazioni bancarie anche loro sono soggetto privato, ma in realtà in mano a chi sono le fondazioni bancarie, per il 50% in mano a enti locali e regioni, per il 50% dei membri degli organismi decisionali delle fondazioni bancarie, questo 50% è nominato, indicato da enti locali e regioni, quindi dai partiti. Quindi in sostanza i partiti attraverso le fondazioni, scusate attraverso gli enti locali e le regioni, nominano la metà dei vertici delle fondazioni bancarie, l'altra metà è composta da indicazioni di università, camere di commercio e non ultimo la chiesa, le diocesi, le curie locali. Guarda, secondo te questa informazione quanto è penetrata fra i cittadini, quanti cittadini sanno ad esempio questa informazione che poi è fondamentale perché se uno ha un rapporto bancario con qualsiasi istituto, pensa di rivolgersi ad un'istituzione privata gestita da un consiglio d'amministrazione, però penso che la maggior parte delle persone ignori completamente che dietro ci sia questo meccanismo. È assolutamente così, i cittadini non sanno, gran parte dei cittadini italiani non sanno uno, che gli enti locali e le regioni, quindi i partiti nominano i vertici delle fondazioni bancarie, due non sanno che le fondazioni bancarie hanno una parte maggioritaria o che comunque ne determina il controllo del capitale azionario delle banche più importanti in Italia. I cittadini non sanno tutto questo, non sanno dunque che i partiti potenzialmente, dico potenzialmente perché naturalmente in realtà noi sappiamo che questo è accaduto effettivamente, ma diciamo che potenzialmente in tutta evidenza i partiti attraverso gli enti locali possono determinare le politiche della banca nominandone i vertici e quindi possono anche determinare la destinazione e la distribuzione del credito. È chiaro che il pubblico, quindi la fondazione bancaria essendo dominata dai partiti, non è un azionista ideale per una banca, perché non ha l'obiettivo della massimizzazione del profitto della reddittività della banca, ma ha come obiettivo, la politica ha come obiettivo quella di ottenere consenso e quindi naturalmente la politica gestisce o può gestire la banca e il credito per consolidare il proprio consenso intervento nella società, invece di porsi l'obiettivo della salute economico-finanziaria della banca. Questo coinvolge tutti gli istituti bancari oppure ci sono delle eccezioni ad esempio su crediti cooperativi piuttosto che le banche popolari? Infatti queste sono proprio due categorie di banche che non sono governate dalle fondazioni bancarie, dove all'interno della capitale azionaria non ci sono le fondazioni bancarie, però è anche vero che le principali banche italiane sono Intesa San Paolo, Unicredit e Terza Montepaschissena, ma anche tra le prime 10 banche italiane c'è anche Banca Carige, queste banche sono tutte controllate dalle fondazioni bancarie. Attenzione, non vuol dire che le fondazioni bancarie insieme o da sole hanno più del 50% del capitale azionario, vuol dire che hanno una quota di capitale azionario sufficiente per nominare la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di amministrazione di queste grandi banche, nel caso di Unicredit un po' meno della maggioranza assoluta, le fondazioni bancarie tutte insieme eleggono 7 dei 17 componenti del Consiglio di amministrazione, 17 componenti che poi eleggono Presidente e amministratore delegato. Mentre per esempio in Intesa San Paolo le fondazioni bancarie, in quota fondazioni bancarie, quindi in quota antilocali, in quota partiti, ci sono 6 su 10 dei membri del Consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo. Nel caso di Montepaschi e Siena, addirittura la maggioranza assoluta è nominata da una singola fondazione bancaria che è la fondazione Montepaschi e Siena, ricordando come la gestione, la proprietà della fondazione bancaria ha creato problemi enormi a Montepaschi e Siena dove i vertici della banca hanno dato luogo a operazioni scriteriate che hanno fatto perdere alcuni miliardi di Euro ai contribuenti italiani. Come si può uscire da questa penaglia e quindi dal controllo che potenzialmente i partiti esercitano sulle fondazioni bancarie e quindi questo si ripencuote poi dopo sulla politica delle banche. E soprattutto ti volevo anche domandare, il potere che hanno le fondazioni bancarie poi dopo, c'entra qualcosa ad esempio con la stretta creditizia che viviamo in questi anni di crisi? Naturalmente il legame tra la stretta creditizia e le fondazioni bancarie è il legame che c'è tra come si gestisce un negozio e la proprietà del negozio. Se io ho un negozio, ne sono proprietario di un'attività commerciale e affido a te Marco la gestione di questo negozio, naturalmente la responsabilità è mia di aver scelto te e quindi questo è lo stesso legame che c'è tra una fondazione bancaria che sceglie i vertici della banca e la politica della banca, anche quella della distribuzione del credito. Le banche italiane hanno troppo spesso, come sappiamo, finanziato grandi gruppi industriali privati italiani buttando via molti soldi, gruppi industriali che magari sono falliti o se non falliti comunque hanno avuto i problemi che hanno avuto come ad esempio l'Italia, come ad esempio il gruppo fondiario Assai di Gresti, questi grandi gruppi industriali hanno beneficiato di un grande credito da parte delle banche italiane, anche perché? In condizioni normali di mercato probabilmente queste aziende non sarebbero state finanziate, per cui il mercato si sarebbe autoregolato, magari estellendo dal mercato stesso queste aziende che non avrebbero trovato credito e questa distorsione ha causato poi dopo il prossimo problema alla banca stessa, ai conti della banca. Io credo che con altri azionisti, non azionisti politici, quindi con collegamenti più o meno diretti con i grandi gruppi industriali italiani, comunque legati quindi alla politica e ai favori della politica, ma con altri azionisti alcune operazioni non sarebbero state fatte, il credito molto facile a gruppi quali quello che ho detto, quali quali che ho detto come pure altri grandi immobiliaristi italiani, questo credito non sarebbe stato dato in questi termini, probabilmente a beneficio del credito verso ad esempio la piccola e media impresa più virtuosa italiana. Comunque diciamo che è sempre difficile dimostrare un legame patente tra i politici nominati nelle fondazioni bancarie e la distribuzione errata del credito, però è ripeto il rapporto tra il proprietario e il gestore dell'esercizio commerciale, comunque i vertici delle banche sono nominati dai vertici delle fondazioni bancarie, quindi dai partiti. E poi si può partire da alcuni dati di fatto, il credito in Italia costa di più ed è un credito ridotto rispetto agli altri paesi europei, in Italia si dà soprattutto credito ai soggetti grandi della grande industria italiana statisticamente e meno alle piccole e medie imprese. Alle piccole e medie imprese il credito costa anche di più rispetto a quanto costa ai grandi gruppi industriali. Insomma ci sono una serie di evidenze che dimostrano che la politica del credito in Italia non è fatta bene, è del tutto evidente che non si può chiedere una buona parte della responsabilità ai proprietari delle banche, quindi principalmente ai partiti e agli enti locali attraverso le fondazioni bancarie. Un altro dato che si fa capire qualcosa sui legami tra politica, enti locali, credito e banche. Se negli ultimi anni il credito alle famiglie attraverso i mutui e alle piccole e medie imprese è diminuito in Italia, bene, nello stesso periodo di tempo il credito alla pubblica amministrazione, quindi agli enti locali, alle regioni, è invece rimasto allo stesso livello se non addirittura, come nel caso per esempio del credito alle amministrazioni centrali, addirittura aumentato. E guarda, tutto questo ragionamento si lega anche al nostro problema posto in discussione proprio sul ruolo delle banche e ad un ritorno al passato, cioè la separazione tra quella che è la banca d'affari e la banca tradizionale, perché questo crea oggi enormi problemi anche sul mercato, anche con delle distorsioni e incide anche sulla stessa creditizia. Noi abbiamo quasi più banche che svolgono il loro ruolo tradizionale di raccolta del risparmio e d'erogazione del credito, ma gli istituti bancari sono molto proiettati o almeno molto più proiettati rispetto al passato sulla finanza, per cui sulle stipulazioni sulle monete piuttosto che sui titoli, sui fondi, su una miriade di prodotti che vengono commercializzati e che possiamo definire strani perché è bravo chi li capisce. Non parlate a voi, io direi che ci sei derivato. Io sono d'accordo sulla separazione, che quel tipo di separazione viene dalla cultura americana, è una proposta di molti anni fa e io sono favorevole e devo dire che questa proposta non è strettamente legata alla nostra, naturalmente. però è una proposta che va nella direzione di rendere più libero l'investitore nel scegliere di finanziare l'economia reale oppure di usufruire di operazioni finanziarie con i rischi connessi. In questo senso questa separazione personalmente mi vede favorevole. Io credo che qualunque riforma che chiarisce al cittadino come vengono utilizzati i propri soldi investiti sia obiettivamente utile. Questa riforma permetterebbe anche di creare un maggiore distacco tra la politica e la finanza, le operazioni finanziarie, almeno in Italia. questo se partiamo dal presupposto che la parte della banca che si occuperebbe di operazioni di natura finanziaria non venisse però detenuta dalle fondazioni bancarie e quindi il capitale azionario di questa parte di banca non sia detenuta poi dalle fondazioni bancarie perché se no comunque i partiti potrebbero influenzare in modo diretto le grandi operazioni finanziarie e questo comunque non andrebbe bene. Però certamente almeno tutelerebbe i risparmiatori da una serie di operazioni rischiose, quelle sui derivati, quelle a cui tu hai fatto riferimento. Quindi queste regole che poi sarebbero delle restrizioni rispetto adesso, rispetto alla politica corrente incompatibili col pensiero liberale. Non è vero che i liberali sono dei selvaggi che credono che soltanto con l'autoregolamentazione del mercato si possa andare avanti. No, no, ma che autoregolamentazione? Il mercato è un ambito che va regolato di per sé, non esiste a seconda di come è regolato, funziona o non funziona. Io credo che una stretta in termini di regole e soprattutto anche di applicazioni delle regole verrà dall'Unione bancaria europea. Questo porterà ad una, verosimilmente comunque questo deve essere l'obiettivo, a una maggiore cautela da parte delle banche che verranno controllate in un modo molto più consistente e quindi verosimilmente andranno incontro a rischi inferiori per quanto riguarda le grandi operazioni speculative. Quindi ancora una volta l'Europa può essere una delle soluzioni. e credo che peraltro con quelle che saranno e che già si conoscono i parametri che dovranno rispettare le varie banche europee per far parte dell'Unione bancaria europea, già queste regole metteranno in difficoltà le banche italiane e verosimilmente, quasi naturalmente accelereranno quel processo che noi invece chiediamo e bringe immediatamente. Cioè che le fondazioni bancarie escano dal capitale azionario delle banche. Le fondazioni bancarie si sono dimostrate soprattutto nel periodo di crisi incapaci di dar seguito a quello che è il loro obiettivo istituzionale, il loro ruolo istituzionale. Cosa devono fare le fondazioni bancarie? Devono finanziare i progetti sul territorio. Quindi devono erogare delle risorse per fare politica di welfare sul territorio. Questo è il loro compito. Questo compito hanno dimostrato in periodo di crisi, quindi da 5-6 anni a questa parte, di non riuscire a farlo. Tanto è vero che tutte le erogazioni di risorse sul territorio delle fondazioni bancarie in questi anni sono diminuite, proprio nel periodo di crisi. Cioè proprio quando servirebbe un maggiore impegno delle fondazioni bancarie sul territorio. Quindi lo strumento fondazioni bancarie nei periodi di crisi è completamente fallito. Le fondazioni bancarie devono diversificare, come tra l'altro la legge prevede, i loro investimenti. Devono investire in fondi esteri, italiani, differenziare, diversificare i propri investimenti. Non detenere la proprietà né di banche né di imprese. Non l'abbiamo detto che le fondazioni bancarie che ritengono la proprietà anche di alcune imprese o comunque delle quote azionarie. Devono uscire dalla proprietà, devono fare solo investimenti che non sono legati alla diretta proprietà di banche e di imprese. e in questo modo non essere legate ai problemi delle banche in periodo di crisi, diversificando il portafoglio. E quindi potendo aiutare meglio le comunità locali con le erogazioni locali e lasciare agli azionisti veri, quelli che hanno l'interesse della massimizzazione del valore, lasciare agli azionisti veri, privati, regolamentati dall'Europa, la gestione delle banche e quindi con una maggiore regolamentazione più severa e stretta, ma europea e l'uscita delle fondazioni bancarie italiane dal capitale delle banche, metteremo nelle condizioni le banche di dare maggiori garanzie agli investitori e quindi anche ai cittadini che depositano i loro soldi e quindi nello stesso tempo permetteremo anche alle fondazioni bancarie di fare il proprio lavoro che non è quello di ingerenza sul governo delle banche. Valerio, nel nostro spazio ci rimangono sei minuti, ci vuole parlare dell'iniziativa di Radicali Italiani che si sta incardinando proprio su questo tema e quale saranno le iniziative che verranno intraprese nelle prossime settimane? Intanto sì, invito tutti ad andare a vedere su radicali.it slash banche o comunque radicali.it in alto a destra nella home page tutte le informazioni relative alla campagna sbanchiamoli fuori partiti dalle banche, così l'abbiamo chiamata. La campagna è fondata anche su una petizione parlamentare che è stata presentata ai due rami del Parlamento e a tutti i capigruppo. Questa petizione parlamentare contiene una proposta di legge che prevede l'uscita dal capitale azionario delle banche da parte delle fondazioni bancarie. Questo strumento è uno strumento, se vogliamo così dire, innovativo pur essendo uno strumento previsto dalla Costituzione, dall'articolo 50, perché generalmente viene utilizzato solo da singoli cittadini diciamo in un modo anche un po' naif, generalmente trascurato dal Parlamento. È probabilmente la prima volta che questo strumento viene utilizzato, la petizione parlamentare, includendo all'interno una proposta di legge. Quindi noi speriamo che abbia successo questo strumento. Noi ci muoviamo in due direzioni. Quella di ottenere la sottoscrizione da parte di consiglieri comunali, regionali, regionali, provinciali, piuttosto che professori universitari, organizzazioni varie di questa petizione. E dall'altra parte abbiamo appena iniziato un'azione sui parlamentari italiani per riuscire a ottenere il sostegno per questa proposta di legge da parte di un certo numero di parlamentari e poi presentare questa proposta di legge attraverso loro in Parlamento. Quindi in questo senso ci muoviamo anche, soprattutto con Alessandro Massari, per promuovere questa iniziativa e ottenere consenso, sostegno e sottoscrizioni. In tutta Italia siamo già andati e abbiamo svolto delle conferenze stampa, piuttosto che dei dibattiti, a Parma, a Roma, a Milano, a Genova, a Torino. Siamo stati a Venezia e continueremo con questo tour, è già in programma una presenza a Pordenone, a Trieste, ma anche a D'Arezzo, a Siena, a Napoli, in modo tale da cercare di non solo coinvolgere le associazioni, ma anche di parlare al territorio, perché l'attività delle fondazioni bancarie ha un legame, come ho spiegato, diretto con i servizi dati dal territorio. Guarda, il ritorno sulla scorta di queste esperienze, poi peraltro è proprio una peculiarità dei radicali, quelli di stare sul territorio, fare la politica, vuole dire, nelle piazze, lungo le strade, a contatto diretto con i cittadini. Che ritorni stanno avendo su questo inizio di campagna? Come rispondono le comunità locali quando si parla di fondazioni bancarie? Perché ti renderei conto che non è neanche facilissimo per tutti comprendere questi dettagli. Marco? Sì, mi senti? Un attimo, non ti ho più sentito. Ah sì, è venuto un po' meno alla linea. Quindi ti chiedevo, il ritorno di queste iniziative sul territorio, che stai registrando, sono ritorni buoni, c'è un interesse anche della stampa locale, perché forse la difficoltà per le persone comuni è proprio quella di capire questi meccanismi, perché sono meccanismi tenuti ben nascosti e poi anche di una certa complessità, visto che parliamo di banche, di questioni quasi esclusivamente tecniche. E' certamente difficile immaginare un ritorno in termini mediali e come sappiamo il ritorno da parte dell'attenzione e dell'interesse dei cittadini si può solo avere tramite un'azione efficace dei media per quanto riguarda questa campagna. Abbiamo avuto alcune conferenze stampe che sono andate male, altre, principalmente quella di Venezia, che invece ha avuto un buon esito e quindi ritorno in termini mediatici. Si fa fatica anche perché naturalmente c'è un legame tra i grandi mezzi di informazione, il credito, le banche ed i partiti. Noi contiamo più sull'attenzione di organi di informazione magari locali, magari un pochino o meno legati a questi potentati politico-economici. Quindi certamente c'è un problema legato al fatto che tocchiamo degli interessi particolarmente rilevanti. Del resto mi auguro comunque che cercando col tempo di raggiungere anche con l'azione degli amministratori locali, i cittadini, il messaggio non sia poi così difficile, perché dopo tutto credo che se una serie di aspetti tecnici non sono semplici da comprendere, c'è da dire che tutti possono chiaramente capire che un legame stretto tra la politica, tra i partiti e la gestione dei soldi dei cittadini è un legame che dà vita a grandi conflitti di interesse, principalmente al conflitto di interesse che è quasi costitutivo della realtà italiana, cioè quello tra chi deve fare le leggi e controllare la politica e chi deve essere controllato, ad esempio i soggetti economici, le banche e le imprese che agiscono e dovrebbero agire liberamente nel mercato. Quindi che la politica nello stesso tempo faccia, produca le regole e le leggi e nello stesso tempo, ripeto, gestisca direttamente attività economiche e banche, questo è chiaro che è un conflitto di interesse enorme che credo possa raggiungere le persone. Potremmo, spero nel tempo, convincere le persone che debbano essere loro, le persone unite magari in imprese economiche, devono essere lasciate liberi dalla politica delle banche. politica delle banche, chiarissimo Valerio, abbiamo favorito il tempo, non mi resta che ringraziarti, tu sei stato veramente chiaro e spero che su questo argomento in futuro possiamo ritornarci, anche perché noi di Liberi TV siamo assolutamente interessati a seguire proprio l'andamento di questa campagna. Diamo qualche riferimento, www.radicale.it, questo mi dà anche l'occasione per suggerire l'istituzione al movimento politico radicali italiani e anche a tutta la galassia radicale con l'istituzione a pacchetto a tutti i soggetti radicali. Per questi schermi non facciamo assolutamente difficoltà a consigliare questo. e per chi voglia conoscere, approfondire, aderire alla petizione, rendersi promotori sul territorio, quindi dare una mano agli italiani in questa iniziativa politica, lascio a te dire i riferimenti diretti, se vuoi lasciare anche dei recapiti, hai questo spazio a disposizione. Attraverso il sito radicali.it e quindi radicali.it e slash banche è possibile anche non solo venire a conoscenza dell'approfondimento, del testo della petizione, ma anche registrarsi a sostegno di questa campagna, naturalmente nel rispetto della privacy, compilando un modulo. Quindi questo chiedo ai web ascoltatori di farlo, così come a chi può, chiedo di dare dei contributi per la campagna e per radicali italiani, cosa che si può fare proprio tramite il sito radicali.it e slash banche, si possono sostenere anche con piccolissimi contributi la campagna così come radicali italiani. Io credo che l'offerta che dia radicali italiani con le pochissime risorse a disposizione in vari ambiti della politica italiana, dalla giustizia alle carceri, all'economia, banche, enti locali, all'ambiente, fra poco partiremo con una iniziativa insieme a legambiente sui sussidi, sull'eliminazione di sussidi al consumo di combustibili fossili, io credo che l'offerta politica nostra, per non parlare naturalmente di tutto il filone legato all'antiproibizionismo e ai diritti civili, l'offerta politica nostra rispetto dalle poche risorse che abbiamo, dimostrano che facciamo un utilizzo virtuoso dei finanziamenti che ricordo sono rigorosamente solo privati e di singoli cittadini. Ottimo, vi ringrazio, rinnovo di nuovo il riferimento www.radicali.it, grazie a Valerio Federico, tesoriere di radicali italiani, a presto di sentirci e adesso seguono i programmi di Liberi TV che sono stati inseriti nel palifesto di questi giorni. Arrivederci, grazie e grazie a te Valerio. Grazie a te Marco e a Liberi TV.